Lei è Eliana? Lui è Mino? Grazie a tutti. Bene? Bene spalle in alto. Andiamo a 1.30. Un minuto. 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 bene bene spalle in alto andiamo a 1.30 un minuto il secondo forse va bene dai che sale lehenga si se vuoi ci fermiamo Liana va bene era un po' tirato tanto non cambia un cazzo non ha capito lei è Liana lui è Mino mezzo chilo un chilo cinque va ti aggiungerò di qua un po' tirato un po' tirato un po' tirato e un po' tirato Grazie. Bene? Bene spalle in alto, eh? Andiamo a 1.30. Un minuto. Tranquillo. Il secondo. Grazie. 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 dai che sa l'elenga si se vuoi ci fermiamo va bene era un po' tirato tanto non cambia un cazzo eh, non ha capito non cambia un po' tirato non cambia un po' tirato Sì. 28, andiamo, andiamo 29, un minuto 30, più che ne hai, solo un minuto 31, dai dai dai, 50 secondi, subito 32, andiamo, andiamo, andiamo 33, così, così, subito 34 35, 30 secondi, dai 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 36, più che ne hai 37, andiamo, 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 20 secondi 38, dai dai, andiamo a 40 39, ancora due ce ne stanno 40, ancora uno, subito, subito, subito 41, va bene 34, educatezazzi 39, continuing 40, under 41, 4, 5, 1 48, sodfano 41, ballosia 41, bigl recepgeben 43, bigl révusica Grazie a tutti.